Proseguono spediti i lavori al campo scuola di Via Corte, lavori che sono iniziati il 22 agosto scorso e che dovranno essere ultimati entro il 13 novembre. Abbiamo fatto il punto con l'assessore allo sport del comune di Cremona, Luca Zanacchi. I lavori stanno andando avanti, stanno posizionando tutte le parti di margine della pista e delle nuove mezzelune, si stanno ultimando le predisposizioni dell'impianto di illuminazione sulla parte verso il centro sportivo Arvedi e quindi i lavori stanno andando avanti. Stanno creandosi e nascendo le due mezzelune e quindi noi seguiamo da vicino i lavori, quindi vanno bene, stanno andando avanti, procedono. Le due corsie dal salto in lungo sono state avvicinate alla pista d'atletica, si stanno sistemando tutte le predisposizioni per l'impianto di illuminazione. Tutte le 130 piante del campo scuola verranno sottoposte a potatura di contenimento. Il termine ultimo per la consegna dei lavori finiti è il 13 novembre. La ditta ha più volte palesato la sua intenzione di riuscire a consegnare la pista d'atletica prima, quindi noi speriamo che prima arriva meglio è, ma ci teniamo anche che sia un lavoro fatto bene, quindi anche con i tempi adeguati. Non è una corsa contro il tempo, quindi devono lavorare bene e lavorare nei tempi. L'investimento complessivo è di circa 800 mila euro. I lavori sono finanziati dal comune e dal gruppo Arvedi.